È ritratto tra i papi legittimi della Chiesa Romana nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Ha portato il nome impegnativo di Papa Giovanni XXIII, ma non è Angelo Roncalli. Sulla controversa figura di Baldassarre Cossa, il Papa che venne eletto e consacrato a Bologna nel 1410, si è tenuto un convegno storico nell'Auditorium Santa Clelia della Curia. Sono intervenuti con il Cardinale Matteo Zuppi gli storici dell'Ateneo Bolognese Berardo Pio e Riccardo Parmegiani, Mario Prignano, giornalista Rai e autore di una ricca biografia, e Marco Roncalli, che ha illustrato la posizione assunta riguardo al nome dal Papa Buono. L'elezione di Cossa al pontificato fu il risultato del tentativo di risolvere lo scisma d'Occidente causato dalla contemporanea elezione di pontefici a Roma e ad Avignone. Per quanto impegnato in onerose operazioni di consolidamento del suo potere, che portarono allo svuotamento di molte importanti casse bolognesi, Cossa ebbe il merito di favorire la convocazione del Concilio di Costanza, che risolse definitivamente lo scisma, pretendendo anche le sue drammatiche dimissioni. Dodici Porte ha realizzato un documentario ambientato nei luoghi bolognesi più significativi della vicenda del Cossa. La registrazione della conferenza e il documentario sono disponibili nel canale YouTube di Dodici Porte.